Il Gospel è un canto popolare religioso, afroamericano, a uno di voci, strutturato spesso secondo uno schema responsoriale. Insieme allo spiritual, da cui si distingue per le brevi frasi di prima, è il prodotto dell'incontro tra la tradizione africana e gli inni religiosi occidentali. I contenuti sono biblico-evangelici, oppure si riferiscono a situazioni sociali ed esistenziali della comunità afroamericana in condizioni di emarginazione. Il repertorio ha molti interpreti, in particolare ricordiamo fra questi Aretha Franklin, Dionne Woolwich e Mahalia Jackson. Questa sera in Gospel's Favorites, arrangiamento di Donald Furlano, ascolteremo Here's God the whole world, Joshua fit the battle of Jericho, and go tell it on the mountain. Buon escort! Buon escort! Buon escort! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.